Napoli è un palcoscenico en plein air. Tra vicoli e gradinate, tra il mare e il Vesumio, Edoardo scrute e delinea l'animo umano. Ne ha tratti sconvolto e profondamente impressionato da ciò che analizza osservando la mimica, la prossemica, i fatti che la gente racconta e nel modo in cui li racconta. Alcune sue commedie hanno come sfondo un paesaggio vesuliano, tra questi spiccatore del greco, località amena e dall'area salubre, ben lontana dalle città ingabbiate dalla calura estiva almeno nel secolo scorso. Edoardo è vivo nei nostri cuori, intere generazioni conoscono a memoria le battute delle sue commedie più famose. Ad avassantat! È una citazione doverosa e premiante di significato. Un abbraccio eduardiano dalla vostra Rossella.